Nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità sul futuro dei campionati dilettantistici regionali. La promozione, la prima, la seconda e la terza categoria non ripartiranno. La Lega Nazionale Dilettanti, a seguito di una riunione a Roma con il Consiglio Direttivo, ha ritenuto che non vi siano le condizioni per la ripresa dell'attività in ambito regionale non di rilievo nazionale e comunicherà la chiusura dei campionati alla FGC. I tornei dovrebbero ripartire a settembre 2021 da zero, con gironi immutati. Non bisogna sottovalutare il fatto che la pandemia in corso abbia creato non pochi problemi e disagi alle società e si potrebbe incorrere anche in abbandoni e fallimenti. Novità anche per quanto riguarda il campionato dell'eccellenza, che nei giorni scorsi è stato riconosciuto dal coni di preminente interesse nazionale. È idoneo alla ripartenza. Per il girone sardo, da fonti non ancora ufficiali, sarebbero ben otto le società pronti a ripartire, tra queste Nuorese, Guspini, Castiadas, Ossese, Atletico Uribosa, Portorotondo e San Marco Assemini. Il resto delle società ha deciso di non ripartire e pagare la tassa di iscrizione al campionato, quale penale, cosa che consente di mantenere la categoria. Le termine di iscrizione scade oggi alle 18. Il consiglio direttivo della Lega ha inoltre deciso di non procedere alle retrocessioni e di stabilire il blocco dei ripescaggi per le prossime due stagioni sportive per le società, che decideranno di non ripartire. Anche gli allenamenti di squadra saranno consentiti solo a chi deciderà di riprendere a giocare.